Tutto è una speciale, in punto di grande cambio, energia di emozioni, per te, bomba. Sensazione? Agatha! La luce. E adesso perché si è spenta? Perché so chi è. È sposato. E la moglie è una tua amica. Cosa che c'entra? Pare che nel 78% dei casi l'adulterio si compie con un'amica della moglie. Dimmi, amore, ti ascolto. Che ti devo dire? Fondamentalmente non c'è molto da ridere. Fondamentalmente? Mia madre è morta tre anni fa. Quella non era tua madre. Parlami. Le tue parole saranno accolte come i fiumi nella vallata. Questo è mio padre. Beh, ma non mi avevi detto che avevamo una sorella così. Tanto perché ne è una. Visto che fai l'architetto, perché non mi aiuti a fare il progetto del vivaio? C'è quei posti dove peschi pesce e te li porti a casa. Secondo me state perdendo di vista il centro della questione. Cioè? Le trote? Non posso mica stare in libreria. Non mi dica che ho finito anche il libro di ieri. Ho la testa altrove. E dove? Rifiuta totalmente il dialogo. Agatha, non fare cose avventate. Ti si ritorceranno contro come un numeral. Avventate? Con grazie.